La grande manifestazione nel parco del castello di Pralormo, che annuncia da 24 anni la primavera con la straordinaria fioritura di oltre 100.000 tulipani narcisi, è stata presentata come da tradizione il 21 marzo, primo giorno di primavera, nella sede della città metropolitana di Torino. A Consolata Soleri di Pralormo, ideatrice del consolidato appuntamento, il compito di illustrare il programma e di raccontare il lungo e costante lavoro. 12 mesi pieni di lavoro per la progettualità che noi finiamo al primo maggio e a giugno nasce il progetto nuovo per la scelta delle nuove varietà, i tempi di fioritura e tutta la robustezza dei bulbi, i nuovi coltivatori, vado in Olanda, all'estremo nord, conosco tutti gli ibridatori che sono quelli che li inventano, quindi questa parte tecnica, poi il piantamento a fine ottobre, 22 persone per un mese piantano, quindi un grandissimo investimento, investimento al buio perché se poi facesse brutto, quindi è proprio un investimento imprenditoriale. E poi la scelta dell'argomento collaterale mi impegna molto perché sono molto esigente, voglio sempre presentare cose nuove, dare visibilità a persone che merita, che magari non sono molto conosciute. La novità di quest'anno sono i ricci. Il parco ospiterà il centro di recupero ricci La Ninna, intraprendendo così un percorso sulla tutela della natura. Alla conferenza stampa è intervenuta la consigliera di città metropolitana delegata al turismo Sonia Cambursano, che ha sottolineato come la collaborazione tra pubblico e privato sia la strada giusta per valorizzare il territorio, favorendo anche un turismo didattico. Credo che anche questo sia, insomma io sono nata e cresciuta in campagna, quindi per me è tutto naturale, ma mi rendo conto che per i bambini di città non è la stessa cosa e quindi la possibilità di toccare con mano la natura e di imparare le sue regole di funzionamento anche per imparare a rispettarla meglio, credo che sia fondamentale.